buongiorno da obiettivo news oggi 27 gennaio e sant'angelo americi e del giorno della memoria celebrato contemporaneamente sia in italia che nel resto del mondo si è stabilito di celebrare il giorno della memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'armata rossa impegnate nell'offensiva vista loder in direzione della germania liberarono il campo di concentramento di auschwitz il 27 gennaio si celebra la giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della shoah oggi anche la giornata nazionale dei carciofi alla giudia e la giornata internazionale della torta al cioccolato tra i nati di oggi annoveriamo mozart 1756 ed è tra parisi 1960 tra gli scomparsi jd salinger 2010 luigi tenko 1967 giovanni verga 1922 giuseppe verdi 1901 e minoritano 2009